come va e bentornati sul mio canale prima di iniziare il video come sempre vi ricordo di iscrivervi al mio canale di youtube qui sotto e di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità problemi sul sito internet me lo state segnalando in tanti mi chiedete come mai non arriva non riuscite a collegarvi neanche con lo speed con la cia insomma sono dei problemini così io oggi ho fatto delle ricerche e ho trovato questo per poi in questi giorni molti mi state appunto segnalando sotto i video con dei commenti che il sito internet dell'inps era praticamente è bloccato e non riuscivano ad entrare ma niente paura perché il sito internet dell'inps ha sempre funzionato molto molto bene e probabilmente sono solo dei disagi o dei servizi momentanei legati proprio al maggior afflusso di persone che stanno cercando informazioni e che stanno accedendo proprio al sito internet dell'inps proprio perché in questi giorni come sapete è uscito il nuovo modello rdc com a quello per l'assegno universale e di conseguenza sicuramente ci saranno tutti lì che provano a inviare la domanda io vi do un piccolo consiglio che magari potrebbe essere utile visto che l'ho sperimentato anch'io in prima persona anziché provare ad accedere durante il giorno provate ad accedere al sito internet dell'inps nella pausa pranzo quindi diciamo da mezzogiorno e mezza fino alle 2 e poi la sera dopo cena dopo le 9 9 e mezza di sera l'ideale sarebbe di notte ma siccome che di notte nessuno c'ha voglia di fare niente diciamo che dopo nella pausa pranzo oppure dopo cena sarebbe l'ideale provate e poi fatemi sapere qui sotto commentato e fatemi sapere qui sotto se effettivamente in questi orari ha funzionato meglio dell'altro argomento di oggi voglio rispondere a una domanda che ho ricevuto anche qui sotto un video che poi tra l'altro vi dico ne ricevo tantissime di queste domande sono tutte molto simili chi in un modo chi in un altro comunque sono molto simili e ne ho presa una a caso e la domanda ce la fa antonio staiti come vedete qua ciao luigi buongiorno una domanda il bonus 200 euro ai pensionati invalidi civili e percettori di rdc i 200 euro gli vengono accreditati il primo di luglio assieme alla pensione oppure il 27 di luglio quando caricano la carta rdc partiamo da lontano non tanto lontano comunque da un po più indietro l'indennità una tante un da 200 euro è una misura pensata per sostenere il potere d'acquisto delle famiglie e arriverà con la mensilità di luglio quindi in linea generale ho già risposto a gran parte delle delle domande il bonus sarà pagato a chi ha redditi fino a 35 mila euro riguarderà circa 30 milioni di persone le modalità di pagamento variano a seconda dei casi e dei destinatari e così oggi vediamo cosa fare per ricevere il bonus rassunto molto brevemente partiamo dai lavoratori dipendenti ai lavoratori del settore pubblico e privato il bonus viene riconosciuto automaticamente ve lo ripeto automaticamente quindi non va inviata nessuna domanda i 200 euro arriveranno in un unico pagamento direttamente con lo stipendio di luglio pensionati ai pensionati sarà direttamente l'inps a pagare l'indennità una tanto da 200 euro con la mensilità di luglio poi abbiamo i lavoratori domestici l'indennità una tanto è stata lo sapete ampliata anche ai lavoratori domestici e l'inps dovrebbe occuparsi di un servizio per la raccolta delle domande al quale si potrà poi accedere tramite lo speed la carta nazionale dei servizi cns o la carta di identità elettronica cie quindi per quanto riguarda i lavoratori domestici se non sono ancora in possesso dello speed io ovviamente consiglio di farlo il prima possibile in modo che appena ci sarà la possibilità di fare domanda online non ci troveranno diciamo sprovvisti almeno della username e della password per poter accedere al sito internet per quanto riguarda i disoccupati che prendono l'indennità di disoccupazione è sempre l'inps a pagare il contributo per loro e sarà pagato anche qui a luglio a chi a giugno avrà percepito l'indennità di disoccupazione per quanto riguarda i percettori di rdc il bonus sarà pagato anche i percettori del reddito di cittadinanza però pare che prima di procedere al pagamento l'inps farà delle verifiche per escludere chi ha già ottenuto il bonus in un altro modo come per esempio i pensionati l'altro argomento di oggi riguarda sempre il reddito di cittadinanza di maggio non pagato che fare il 27 di maggio è iniziato il pagamento del reddito di cittadinanza e i pagamenti sono andati avanti fino alla fine del mese di maggio perché lo sapete ve l'ho già detto tante volte le poste italiane hanno avevano o comunque hanno tempo fino all'ultimo giorno del mese per terminare tutte le ricariche dei pagamenti ma ci sono stati però dei mesi in cui questa regola non è stata proprio presa alla lettera diciamo che hanno pagato un po come volevano loro senza una logica che io in prima persona non ho ancora capito quindi se dal primo di giugno non arriverà la ricarica rdc allora avrete bisogno di andare in una sede provinciale dell'inps per capire cosa potrebbe essere successo probabilmente ci sono stati solo dei problemi con la vostra pratica nulla di che oppure non è detto che si tratti di una revoca ma per esempio potrebbe essere il caso faccio un esempio che ci sia stata una sospensione per una verifica su alcuni dati reddituali o patrimoniali e quindi l'unico modo per capire qualcosa e capire che cosa è successo è quello di parlare direttamente con l'inps e quindi con un dipendente dell'inps oppure andare tramite un caff però io sinceramente preferirei la prima opzione cioè quella di andare di persona direttamente all'inps per parlare proprio con un dipendente che ha un terminale un computer lì davanti che capisce la vede la vostra situazione inoltre è un altro consiglio potrebbe essere che anche qui se non ricevi entro il primo di giugno nessuna ricarica mensile puoi provare a inviare una segnalazione online quindi via internet tramite proprio il servizio messo a disposizione sul sito internet dell'inps e quindi vedere se magari da lì ti danno una risposta prima di concludere il video volevo parlarvi dell'ultima novità che ho introdotto all'interno del mio canale e la novità è l'hashtag l'hashtag rispondiluigi proprio come vedete qui infatti tramite l'hashtag rispondiluigi avete la possibilità di segnalare a me e a tutti gli altri iscritti del mio canale le eventuali comunicazioni che vi dà l'inps quindi se chiamate al centralino inviate un'email inviate un messaggio andate di persona a parlare con un dipendente dell'inps e ti danno delle informazioni che potrebbero essere utili e interessanti per tutti quanti potete utilizzare l'hashtag rispondiluigi per comunicarlo a tutti noi ovviamente potete sempre utilizzare i commenti sotto i video ma se ritenete che la vostra informazione è utile anche per tutti gli altri potete utilizzare l'hashtag e poi cosa succede succede che io prendo questi messaggi quelli più importanti quelli più rilevanti e li utilizzo per poi pubblicarli all'interno dei video quindi possono essere utilizzati per comunicare anche agli altri quello che siete venuti a scoprire direttamente dal lì con questo è tutto ti ringrazio per avermi guardato ti ricordo se hai altre domande puoi commentare qui sotto e ricordati di iscriverti al mio canale di attivare anche la campanellina così sarai sempre aggiornato su tutte le prossime novità ci vediamo in un prossimo aggiornamento sempre e solo qui sul mio canale di youtube ti aspetto ciao 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 ciao